Ha chiuso bene Bari che prova ancora con Cassano posizione regolare Grande controllo in velocità di Cassano Cassano ancora è rilasso sul destro Sì, sì, finalmente Allora Non spieghi che ci facevi l'altra sera al bar con quella lì? Che c'è? Non ti ricordi? Era l'altro ieri se non sbaglio Sì, era l'altro ieri Io ero uscita con Marika, sono passata lì con la macchina E tu stavi parlando con quell'oca giuliva senza cervello Francia, mi stai ascoltando? Sì Lo spero tanto che tu mi stia ascoltando Io non so più come devo fare con te Non lo so più Ti devo mettere le spie addosso? Un investigatore privato? Un detective? Qualcosa del genere serve per controllarti? Non lo so più, veramente Dimmelo tu perché non so più cosa devo fare Credimi Sono disperata Francesco, disperata Francia è tutto a posto Francia che c'hai? No, 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 calma Ti stiamo parlando da persone civili, va bene Dai, davvero Sono disposta a perdonarti Ma solo se mi dici la verità Dimmi la verità Chi era? Cosa ci facevi lì con lei? E perché eravate così seduti Così carini A chiacchierare Vicini Me lo dici Francesco, per favore? Francesco? Parlami, ti prego Francesco Francesco Parlami, ti prego Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì dai... dai, dai... gol! Zerotta! Gussa di neppogli gioco... gol! Samuaria muore a destra rispetto al suo fronte d'attacco dentro Ferguarin il tiro... Zerotta! centre! 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 ...è importante che Melanchi tocca... Dai! Già! ma che schifo a giocare così i cadame un nuovo guarda che ha cercato da GO 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 Scusa Sss c'è il piede di Campania quando viene al gioco 15 minuti GO 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 Sì 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 Allora, Allè, 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 dammi leggere un'altra cosa, per favore. Da Luis Miguel Altisco Pissi, portoghese, giusto per tutti i giornalisti. Oh, questo è il giro, bravo. Ma, Allè, ci vediamo dopo, ciao. Pronto? Allè, Allè, sì, un altro. Allè! Allora, un attimo so che ho appena riuscito. Da lei, non io, eh? Sì, una certa chiara. Sì, ehm. Pronto? Pronto? Allè. Allè, all'altro. Senti, amore, mi hai detto più. Ma non è che ti fa vedere la partita una volta? Tanterebbe una sigaretta, resta da accendere qui. Vabbè, oh, dati il capo, per favore. Calcio d'angolo, questa volta lo scambio è nostro. C'è Pirlo, libero, potrebbe anche calciare. Lo scambio è. Per favore, ehm. Cristiano Maggioio! Cristiano Maggioio! Cristiano Maggioio! Cristiano Maggioio trova più di te! Ale, 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 oh, ale, 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 oh, Cristiano Maggio Lio, Cristiano Maggio Lio. Chissà, 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 se mi dici una bugia la verità.